Anche se Belen Rodriguez non ha mai commentato l'esperienza di Antonino Spinalbese nella casa del GFVIP, la donna è spesso tirata in ballo, stavolta da Alfonso Signorini Il conduttore, infatti, nell'affrontare una faccenda inerente Oriana Marzoli, ha pronunciato una frase un po' imbarazzante, che riguarda la famiglia di Belen Il presentatore, infatti, si è lasciato scappare una frase sulla madre della showgirl, che ha imbarazzato non poco Antonino Quest'ultimo ha avuto una reazione un po' inaspettata. Vediamo cosa è successo Alfonso tira in ballo la madre di Belen Rodriguez durante la puntata di ieri del GFVIP Alfonso Signorini ha tirato in ballo Belen Rodriguez durante un blocco nel quale era collegato anche Antonino Spinalbese Ricordiamo che il ragazzo è... Alonso Signorini si è scattito Il presentatore, in dando un'applicato, mi piace sul culto E per noi, ho sottotitoli, sono scattito A volte il presentatore, infatti, si metti in tutto questo E per noi, con un'applicato, si metti in зачiavo Su un'applicazione di Bessone, ti asciò spielli Guardi l'applicazione, ci si è eccola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tali parole, però, hanno fatto calare il gelo nello studio. Antonino, infatti, è apparso piuttosto imbarazzato, al punto da non riuscire a replicare in alcun modo. In merito a Belen, invece, la donna non è minimamente intervenuta sulla faccenda, proprio come sua madre. Pensa un po' hanno messo in mezzo la madre di Belen, pensa a che punto sono arrivati questi due Antonino, e signorini Pietà Cancelletto Gifwip, LP, Chiocciola Michael 1212, Genuari 9, 2023.